Questo per te è un mese personale numero 7. Rifletti, riposa, rallenta. Goditi solitudine e contatto con la natura, guardati dentro, osserva pensieri ed emozioni, fai un esame di coscienza, scopri le tue dinamiche interiori, medita e dedicati alla tua evoluzione spirituale e personale. Usa razionalità, intuito e distacco, domina istinti ed emozioni. Mantieni sempre la calma, mese perfetto per scrivere, studiare e leggere, specie in ambito metafisico, filosofico e scientifico. Trova le tue risposte, le tue verità, il tuo centro. Allinea tutto, corpo, mente, emozioni, spirito.